nooo oh abbiamo ancora due minuti filmato un bel po' senti do una manetta scusate anche io infatti anche prima non capivo non capivo hai cacciato il culo adesso lo io ho dato i giornalisti però io me li metterai la perché perché dopo vai vado giù è vero in mezzo tra il basso e no ma non metterlo in fuori puoi neanche tenerlo in prima quello basta che tieni la frizione tirata dopo devi cacciarlo giù dopo questa è lì ti inserite la marcia no no tieni la frizione tirata allora dopo aver vieno presenza non 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 Grazie per aver guardato il video!